La comunicazione di servizio ricordiamo per i partecipanti che è severamente vietato superare la vettura di sicurezza stradale negli eventi raduni autostoriche Italia la Citroen 2 cavalli vapore 6 saffetti car official car raduni autostoriche Italia che è presente con Il suo programma per la sicurezza stradale con camera car attivata in diretta Facebook YouTube in modalità orrec Nelle manifestazioni autostoriche Italia nazionali internazionali 2075 auto scordate anno 2016-2017 Parigi S driver pilota Grazie